Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In FIPILI per lavori di installazione di telecamere per la sorveglianza stradale, chiusura della rampe d'ingresso e di uscita dallo svincro di Ginestra Fiorentina in direzione mare dalle 8 alle 17. Sulla statale Trebbis-Tiberina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata tra i chilometri 149, 550 e 144, 700 con chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata e uscita in direzione Orte. Per la viabilità cittadina oggi è in programma l'asfaltatura in via di Monte Rinaldi a Firenze con chiusura del tratto da via della Lastra alla biforcazione di via di Monte Rinaldi. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!